Guarda dove sono stato questa mattina, dove sto? Gioia mia! Questo paese è stupendo, Galliano Aterno. Questo è l'ingresso al castello. Guarda che roba, senti le campane. Non vedo l'ora. Una piccola escursione. Ciao cara, baci, baci baci. Sotto il castello di Galliano Aterno. Stupendo. Vado ad abbeverarmi. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Guarda, 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 guarda. Guarda come sgorga l'acqua. Guarda adesso che angolo che scopro di questo meraviglioso paese. Guarda la chiesa. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Guarda qua. Da venisci, eh? Gioia! La ristrutturazione fa parte del cratere del terremoto dell'Aquila. Siamo in provincia dell'Aquila. Ho già fatto un video su questo paese. Eh? Ah, c'è una cripta poi da andare a visitare. Adesso che mi ricordo. E via Fontana, dove stavo prima. Via Fontana. Piazza San Martino. E via Fontana. Di là c'è la Fontana quella sotto il castello. In quel dì, Galdiano Ternovo. Ecco, guarda là, c'è una scritta di quelle fasciste. Senta? Alla gloria e alla potenza. Ecco il castello. Questa è la scritta, però io non vedo se si vide, ma vabbè. Mi piace, via sotto le finestre. Via sotto le finestre. C'è pure scritto. Via sotto le finestre. Tutta una finestra, al sole. Esposizione solare. Guarda la neve, guarda la neve. Ah, ecco, ecco, mi ricordo qua stava la cripta. Ecco, qua sotto stava la cripta, l'ho ritrovata. Chissà se vedrò qualcosa. Ecco la cripta. Vado a vedere. Se riuscirò a vedere qualcosa. Sì, eccola, eccola. Si vede, si vede. Si vede bellissimo. Mazza. Ecco la cripta, l'ho trovata, l'ho trovata. E c'è una sensibilità. Che c'è scritta? Non lo leggo. Gioia, l'ho trovata per te. Stava con questa luce che riesca a vedersi così. Ma... Ma... E così... Ah, quella è la casa del mio amico. Adesso ho capito. Qui c'è il comune. Ecco lì. Il monte Sirente. Eccoci. Sotto le finestre. Tutte esposte a sud. A sud. Montagne piene di vegetazione. Che vuoi di più? Ah, c'abbiamo pure la campana. Dai. Senti che suono. Senti che suono. Ah, fa dodici e mezza farà. Dodici e due. Me lo sento tutto. Ce lo sentiamo? Te lo senti? Uno. Due. Undici e mezza. Di quest'oggi. Che è oggi? Quattordici? Tredici? Quindici? Ah, ha già cominciato a registrare. Questa è la piazza comunale. Ecco lì dove c'era il campanile. Questa è la piazzetta del comune. Vediamo qua che c'è. Parco naturale regionale Selino-Sirente-Vedino. Fa parte del parco Sirente-Vedino. Monumento al Milite. Il Chignoto. Galliano a Terno ai suoi caduti. Questo gattone che mi gira intorno davanti sono arrivato. Gattone per gli amanti dei gatti. Eccolo. Eccolo. Guarda, guarda che occhi che c'ha. Miccio. 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 Miau. 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 Ti sei stufato? Ti sei stufato? Mi gira intorno davanti sono arrivato. Miccio. Gatto. Ti sei stufato? Gi ta qui? Che ci sei stufato? Massimo. Guarda allora. Grazie.